la belva del pensiero un contributo alla filosofia dell'intelletto citazione di apertura tratta da il lupo della steppa di hermanesse la vita non è semplice come il nostro pensiero grossolana come il nostro povero linguaggio di idioti il pensatore o la pensatrice tanto quanto la poetessa il poeta o l'artista intrattengono una relazione intensa e passionale con il sapere e la conoscenza e non affrontano mai alcun pensiero o moto dell'anima con leggerezza o semplicismo ma sempre come dei cauti domatori che si avvicinano quatti ad una belva temibile che può annientarli anche per un minimo volgersi del capo molte sono le insidie celate tra le terre della conoscenza e le menzogne della realtà prima fra tutte la scoperta che ciò che genericamente chiamiamo vero sia appena un'ombra e quanto ci appare oscuro e instabile sia invece il solo vero avventurarsi tra le impervie contrade del pensiero significa allora lasciarsi sbalzare lontano fino al punto da non riuscire più nemmeno a riconoscere la strada da cui si era partiti se c'è una filosofia che costruisce sistemi con i quali spera di potersi orientare sugli orizzonti del pensiero ce ne sono anche altre che assumono il pensare come un disorientamento attraverso cui riconoscere prospettive altrimenti celate a quella logica che vuol sempre ordinare secondo categorie e sequenze il pensiero non è una bestiola manzueta che possa venire comodamente addomesticata il pensiero è una belva che bisogna aggredire a mani nude a salire scuotere percuotere resistendo ai suoi possenti contrattacchi graffi e ruggiti chi si arrischia tra le lande del pensare non può utilizzare il pensiero come una stampella perché pensare è una costante sfida ad un duello di lame affilate una tensione nella quale si decide anche del nostro destino esistenziale e proprio opponendosi con fierezza agli inganni e dalle trappole della vita apparente della presunta realtà che allora possibile sfidare l'esistenza provando a stanarne le contorte verità da antrian fratti spesso le conseguenze di questa contesa hanno esiti tragici per coloro che avevano osato avventurarsi tra quelle terre smarrendovi la mente nella follia o patendo altre sconfitte per mano del tetro destino o di altri fratelli umani con il pensiero poiché questo quando è tale è sempre un cimento radicale si può lottare solo mettendo costantemente a repentaglio la sanità e la vita mentre la temibile belva dall'altra parte nonostante i suoi contraccolpi e trabocchetti rimane imperturbata di fronte a questi curiosi cavalieri ad araldi che si inoltrano circospetti tra quelle terre il pensiero come un drago possente ed ancestrale declama con voce tonante sappi che raccogliere le mie perle è una sfida terribile pericolosa in molti modi minaccia invita o sprona a lasciar perdere quei perigli ed andare a pascolare per le terre dell'obbedienza al più forte e del conformismo al greggio persino il coelet dichiara severamente chi accresce il sapere aumenta il dolore e dopo tale ammonimento solo gli ostinati o i posseduti hanno ancora il coraggio o l'incoscienza di perseverare su quelle strade infestate di trappole e calabbi vari gli altri quelli che del pensiero hanno fatto una marmotta per aule tetre si accontentano d'altro si assiedono satolli su poltrone e cattedre di allori ai margini della via oppure si abbarbicano ai loro podi intarsiati coperti nelle loro palandrane e fingono di tracciare mappe sicure e accreditate tra i territori del sapere ricevendo per questo pacche d'approvazione dall'alto e dal basso chi ripete non sta però esplorando nulla si limita a piazzare qualche altro segnale in alcuni punti di una strada già battuta conoscere è un turbolento e curioso percorso metaforico che si oltre del suo stesso cammino conducendo alla rimembranza attraverso la dimenticanza per conoscere davvero bisogna allora imparare dapprima a mettere da parte se stessi e iniziare a dimenticare ciò che si crede di conoscere pars destruens e pars construens e questo non può che spaventare e turbare i desideri e le volontà di coloro i quali credono già di sapere ciò che è dalla parte delle aquile non può mai dirsi uguale a ciò che è dalla parte delle marmotte facile credere difficile capire arduo comprendere impossibile arrivare a conoscere fino in fondo perché il sapere autentico intende che dietro ogni porta se ne cela un'altra e nessuna chiave sarà mai in grado di aprire ogni porta possibile la potenza da la dunamis del pensiero non può mai venire interamente dominata ed è solo in virtù della loro inerzia e acquiescenza che gli esseri umani credono nelle risposte conclusive con le quali rassicurano i tanti giochi mondani e fallaci comodo del resto credere che il labirinto abbia una chiave che l'universo possa finire o l'immensità possa essere racchiusa dentro una cifra comodo ma al tempo stesso privo di vita la charla non uccide il silenzio la charla è già silenzio anche se tutto quello in cui crediamo speriamo in quanto umani fosse appena un sogno non basterebbe forse la sola sfida a farlo vero la realtà dei giganti non è nei mulini che incombono da lontano ma nel cuore eroico e puro di don quixotte che si avventa in pavido contro e la verità più vera non sta con coloro che hanno sanzionato il cavaliere della mancia come uscito di senno solo perché non riescono a vedere ciò che i suoi occhi vedono chi è l'essere umano quando non prova ad ergersi sulla sua stessa umanità cosa diviene l'individuo quando non prova a guardare ciò che egli solo può vedere non è ad esempio lo sguardo dell'amore una visione capace in sé di vedere ciò che nessun altro vede chi oserebbe dire a colui che ama ti sbagli e tutto quello che senti e vedi in quell'altra persona è un mero errore e tu uno sciocco o una sciocca perché credi in ciò che ti è stato svelato attraverso un mistero tanto antico quanto l'esistenza umana chi sarebbe qui il folle colui che vede ciò che nessun altro vede quelli che non sanno che esistono misteri che possono essere intravisti solo attraverso l'anima che ne è dunque dell'essere umano quando non prova a scrutare oltre il velo delle cose la patina del tempo in cui gli è dato esistere levate in alto i vostri occhi e guardate esorterà ancora un celebre passo del profeta isaia che ne è di un individuo quando non rischia neppure di bagnarsi le caviglie nell'oceano delle verità e preferisce navigare solo per mari tranquilli come fanno i mercanti ed i cammellieri per i quali la mercanzia è più importante del viaggio facile a dirsi è un essere che ha dimenticato se stesso vestendo la benda dell'accecamento volontario o scendendo anzitempo gli scalini dell'ade in cui tutto è uguale perché tutto è trasparente e privo di forma e ovviamente anche di vita quando ulisse nel libro undicesimo dell'odissea evocando le anime dei morti riconosce l'ombra del prode achille ne loda il fatto che egli era beato in passato sulla terra e lo è ai suoi occhi anche nel futuro poiché da vivo gli rendevano onore gli dei e gli argivi mentre da morto aveva grande potere nell'ade il celeberimo e acide risponde non abbellirmi illustre odisseo la morte preferirei servire da bracciante un uomo povero senza podere piuttosto che regnare su tutti i morti achille richiama qui la chiara supremazia della vita vera sopra l'esistenza umbratile chi è vivo non può essere ombra poiché è libero chi è vivo non può essere evanescente deve agire autonomamente e per questo pensare sperare amare sognare grazie grazie